ma è già la seconda volta che la becchiamo in stanza da letto signora citronello salve signora mi senti? è arrivato l'audio? ciao Omar tu sei io? disturbiamo come sempre scusami non vuoi guardare perché io stasera la vedo in atteggiamenti molto spinti no 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 perché l'altra sera domolo non vuole manca brodo no li stai inventando tutti e loro stasera cosa stai inventando? quando partorivo a mio figlio quello è venuto dal belgio a gerry nemmeno quando ho partorito a lui io mi sono vestito così perché un dottore metalliano mi smediglio come la guardava? all'ospedale tutti mi guardavano e meno male che avevo la pancia ma è vestita benissimo stasera complimenti ora devo tutto la fare impazzire lo devo fare impazzire si assi un po dai mi faccia vedere faccio un giro 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 tondo no sono sexa sono sexa sexa sono andata in america al texas si siete che non la vedo va bene così sono diventata sexa ho capito allora aspettiamo non lo so aspettiamo suo marito da quella parte vediamo no no io l'ho provato tutti viagra 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 via mare tutti tutti e non ha funzionato non ci può niente non ci può niente allora l'ultima sua prova sarà questo vestitino veramente molto sexy eh guarda ho messo si bello ha dimenticato di fare il pelino però il pelo il che c'ha qua? questi l'ormone sono come si perché ho fatto una cura ormonale quando ho avuto il bambino quello ah e quindi è cresciuto il ciuffo? si quando avevo da Jerry quando avevo da Jerry ho fatto una cura ormonale ma però lui ci piace si me la liscia ah si? si me la liscia ah vabbè quelle di qua e quelle di giù no no vabbè non ci interessa si quelle di giù allora lei esce aspettando suo marito si aspetta aspetta che aspettiamo dai vediamo che se lui va a fare lotte lotte si si farà lotte io ora vado accendere vado accendiamo la musica dai che sta arrivando sta arrivando vado accendere vado accendere la musica eh dai o accendere si sente ora batte la musica appena si rivolge la musica ah ecco ecco pochi d'artificio c'è c'è è qua è qua è arrivato è arrivato che fa ora? giacamino come si fa in questi casi? giacamino si vediamo giacamino vediamo cosa combinano giacamino ma come sexy guardami giacamino ma come sexy che bello abitino che c'è guarda giacamino che bello oh oh giacamino giacamino spasano non mi vedi non mi vedi no aspetta che mi seguo mi seguo mi seguo mi seguo mi seguo no 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 forse giacamino non funziona non funziona io vado a staccare la musica e non funziona con la musica allora lui non attacco con lui eh no 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 io ora 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 ci parla tu per tu eh 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 dobbiamo lasciarla sola possiamo rimanere ancora adesso arrivano apri piano la porta poi si butta sul letto e poi e poi ma ora ti sei messo pure a fare le moine che sono queste moine allunghi la coscia che canzone di mina manco ci può lasciare le scarpe tu e mina io sono una persona pacata una persona calma e non mi arrabbio mai ma mi ha vissuto di questa maniera anzi scogliata così ma guarda che schifo ma guarda che che orrore questo è un monstro non è che è la prima giacomo giacomo no ma per piacere queste cose giacomino no io non ce la faccio a guardare ancora stacca no non è possibile ma giamba io non lo so signor giacomino ascolti si lamenta sempre per sua moglie è insomma una sera che si è vestita per come si deve e sta cercando insomma di avvicinarsi a lei e si lamenta pure scusa omar io a lei non glielo devo fare capire che la sento la sento la sento la senta assa si è così deve fare no 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 vestita così mi fa vedere il bollore no anzi scusa scusa omar io ti devo lasciare perché non resisto più non resisto io mi hai detto le sopra io stanotte la capolevo la faccio stare nuova il vero giacomino sanotte vieni in casa e ti prendo tutta lì davanti e ti vieni grazie buongiorno che mi sei venuto a trovare buongiorno come è andata sono troppo curioso di saperlo dai ma è che guarda omar non c'è non c'è modo di descriverti che cosa è successo questa no cosa è successo ha funzionato allora non so se tu hai presente il fuoco d'artificio ce l'hai presente l'ultimo botti che l'ultimo l'ultimo eh sì tutto che scoppiano sì va beh tutte cose scoppiano non lo specifichi però sì sì mi devo alzare no 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 lo stacchiamo stacchiamo non vogliamo vedere nulla no 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 guarda mi devi vedere sono come Banda Osiris Banda Osiris Banda Osiris è stato un diavolo stanotte allora che bello che sonarito cosa dice niente faccio salti di gioia faccio salti di gioia e allora è andata proprio bene stanotte sì 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 no no è stato bellissimo è stato bellissimo bellissimo pure bellissima serpese vabbè la saluto si riprenda vieni facciamo che lo faccio e basta arrivederci arrivederci grazie a tutti ben magnanimali e grazie a tutti tu Grazie a tutti.